Il dodo, odronte, raffus cucullatus, era un uccello columbiforme, endemico dell'isola di Mauritius. Era incapace di volare, si nutriva di frutti e nidificava a terra. Si estinse rapidamente nella seconda metà del XVII secolo in seguito all'arrivo sull'isola dei portoghesi e degli olandesi. Benvenuti in un nuovo video ornitologi. Oggi parleremo di uccelli. Cioè, volevo dire di coltelli. Oggi parliamo di uno spiderco molto particolare. Tra l'altro uno dei coltelli più strani al mondo, secondo me, e anche più rari, tra l'altro in via distinzione, che hanno fatto un grande successo nell'industria spiderco. Il coltello in questione è il dodo. Adesso vi parlerò un po' prima dell'uccello e poi del coltello, perché, non lo so, me lo ricordo un sacco per le sue forme, per quella specie di becco che c'ha. Tra l'altro ho scelto anche il dodo a lama piana, al filolicious, diciamo, non serrato, che mi ricorda molto il dodo. E vi metto infatti una foto del suo becco. Vi racconto un po' come mai questo uccello si è estinto, perché ci sono delle leggende riguardo a questo animale. L'ambiente favorevole, la scarsità dei predatori abituali e il clima che offriva la possibilità di limitare spostamenti e migrazioni favorirono in questi uccelli una progressiva atrofizzazione delle ali, cui corrispose una graduale modifica delle abitudini alimentari, alla fine completamente rivolte verso una ricerca del cibo a terra. Il mito secondo cui l'estinzione sarebbe stata dovuta alla caccia da parte dei marinai pare infondato. Fonti sia portoghesi sia olandesi descrivono la carne del dodo come poco appetibile. Se il termine dodo deriva dal portoghese doudo, che si legge doido in portoghese moderno, che vuol dire sempliciotto, forse inteso anche come preda facile, probabilmente per l'impacciato movimento, il termine olandese invece lo descrive meglio. Infatti in olandese si chiama valvogel, scusate la pronuncia, vi metto lì il nome, che significa invece uccello disgustoso, quindi non era tanto saporito da mangiare. La tesi più accreditata è che il dodo si sia estinto in seguito alla distruzione del suo habitat da parte dei coloni che inserirono praticamente specie antagoniste come maiali, ratti, cani, gatti, scimmia e distrussero anche l'habitat naturale del dodo. Un altro probabile fattore che contribuì all'estinzione della specie è la scarsa difendibilità della prole, dovuta alla nidificazione a terra e alla scarsa mobilità degli individui della specie. Sebbene infatti il sapore delle carni di questo uccello non fossero particolarmente gradite al palato dei coloni, le uova comunque restavano commestibili per l'uomo stesso ovviamente. Tutto ciò ha portato all'estinzione di questo animale intorno alla fine del 1600. Mentre questo coltello diciamo che si ritrova estinto tra l'altro sold out come si suol dire nel negozio spiderco. Infatti l'ho trovato da un collezionista che me l'ha ceduto, quindi vi consiglio di, se lo trovate, di prenderlo perché è veramente bello. Andiamo a infatti unboxarlo, come si dice. Intanto vi faccio leggere anche il codice in maniera tale. Questo è il dodo, mi zoomo, del 827-03, quindi 27 agosto del 2003 ed è il C80 GPBL. Vi ricordate il C80 il dodo in G10 plain edge blu. Ovviamente per i codici vi invito a vedere il video SCU SKU che ho fatto poche settimane fa. Allora questo è il dodo, è dotato, ve lo descrivo un attimo, di una lama a forma di S corta e rovesciata e di una grande impugnatura ergonomica in G10. Il blocco del cuscinetto a sfera di spiderco, che è questo qui, è stato utilizzato per la prima volta sul dodo. Il C80 è stato introdotto nel 2003 e poi è stato interrotto nel 2006. La forma della lama S inversa ricorda una S all'indietro con la punta curva verso il basso. La pancia profonda, la parte più spessa della lama, si curva nella stessa direzione della punta e quindi la fa sembrare una S rovesciata, proprio come il C12 Civilian. Civilian è il matriarch. Ha quella forma, solo che il Civilian e il matriarch sono più allungate, questo è più tozzo, proprio come l'uccello dodo. Ecco perché vi ho fatto quella prefazione. Vediamo cosa ci dice l'azienda sul C80 GBL. Spiderco ha ricevuto infiniti commenti sull'aspetto non convenzionale insolito del dodo, con un volto che solo il suo designer potrebbe amare. Il dodo soddisfa molte delle filosofie di progettazione di Spiderco è un piccolo grande coltello che è stato progettato al buio e dovrebbe essere giudicato dalla sua ergonomia, che produciamo con materiali e caratteristiche di prima ordina. Accetta la nostra sfida, mettilo in mano, prova a tagliare qualsiasi cosa, quindi facci sapere cosa ne pensi. Una delle sue caratteristiche curiose è la forma della lama. Sebbene la lama abbia meno di due pollici di tagliente, il ventre curvo fornisce una grande capacità di taglio e la sua punta, rivolta verso il basso, è concepita per un taglio dettagliato e fine. La lama è tagliata a laser da un materiale CPM S30V, quindi rettificata con un cuneo che corre dalla punta a metà del dorso. Per creare una manciata di punti di leva, il manico del G10 è modellato in un gruppo di spirali di dita che terminano con una coda. La coda diventa sia un appoggio per il mignolo, so se vedete, che uno strumento sorprendente. Per il Dodo in particolare Spiderco ha sviluppato il Ball Bearing Lock. Funziona facendo cadere una sfera di acciaio, nelle dimensioni di un pisello, in una rientranza sul codolo della lama, bloccando la lama aperta. Una volta nella rientranza, la palla viene compressa dalla lama e aperta, non può più muoversi né oscillare. Un sistema di chiusura straordinariamente forte che si classifica per MBC e per impieghi gravosi sulla scala di forza del meccanismo di chiusura di Spiderco. Per sbloccare, tirare indietro la sfera accessibile su entrambi i lati del coltello per l'uso con la mano sia sinistra che destra. La clip a filo flessibile si può trasportare in modo ambidestro ed è anche ribaltabile. disponibile con un manico nero o blu, prodotto a golden in colorato. Io ovviamente ho quello di colore blu. Ragazzi questo coltello è fenomenale, ce lo dovete veramente tenere in mano, cioè si adatta proprio alla mano, quando lo prendete proprio, sembra proprio disegnato nella mano. Infatti non so se vedete il mignolo poggia precisamente qui, le due dita rientrano in quest'arco e il pollice va nel suo finger joil. Vi do alcune misure. La lunghezza totale del coltello è di 157 mm, quindi 15,7 cm. La lama è di 54 mm, il filo di 44 mm, da chiuso misura 111 mm e il peso è veramente leggerissimo, è di 79 grammi. vi faccio una panoramica del coltello con lo zoom. senza parole, basta solo guardare questo coltello e non c'è nient'altro da dire. per questo stranissimo uccello barra coltello della Spyderco. Al prossimo video dal vostro doc.